ultima domenica di agosto qui a mussomeli festa di san calogero e eremita che si festeggia nella chiesa di san giovanni. Enzo possiamo parlare di un bimbo prodigio a sei anni che cosa fa? Salvatore a cinque anni quasi voleva andare alla banda musicale ma Peppe Noto gli ha detto prima devi andare a scuola che devi insegnarti a leggere e poi a sei anni quando vai a scuola viene alla banda musicale che ti insegniamo il tamburo. Questo bambino gli è piaciuto sempre da bambino il tamburo. E quindi possibilmente il tamburo lo faceva sui tavoli? Sì sì dappertutto dove andava in campagna anche a scuola la maestra gli ha detto Salvatore ma che cosa fai? Fai sempre il tamburo. Cioè praticamente quanto sentiva ritmi e allora lui l'accompagnava? Sì sì l'accompagnava sempre e così oggi per san calogero Salvatore è la prima volta che è iniziato a suonare con la banda musicale. E quindi avrà la sua paghetta a sette anni? Non lo so questo non lo so comunque il bambino è così contento che stamattina è già dalle sei sei e mezzo si è iniziato ad alzare dal letto che voleva andare a suonare il tamburo. Lui forse preferirà non mangiare per continuare a suonare il tamburo? Sicuramente sì. E quindi E quindi E quindi E quindi E quindi E quindi Ed oggi Ed oggi Salvatore di Liberto, sei anni, è alla sua prima uscita mattutina della festa di San Calogero qui a Mustomeni. E quindi E quindi E quindi E quindi E quindi